Oggi la vittoria per il Napoli significa certezza del ritorno in serie A e per vincere Chiellini sa che non deve subire gol. Gli auguri potrebbero segnare al primo minuto sul calcio di rigore concesso per evidente fallo di Venturi su Griesio. Ma Suprina calcia a lato. Il Napoli tenta di rifarsi subito. La palla è in rete, ma è fuori gioco. Nuova insidia, Griesio di Andrei. Tiro, magnifica parata in angolo. Incitato dai suoi 25.000 tifosi, il Napoli vince a l'inizio della difesa con questo fortissimo tiro di Chiellini. Non soltanto oggi provvidenziale canoniere, ma prima che la vittoria sia sicura che Lini dovrà passare un brutto momento. Finale azzurro. Se per fine un secondo gol, anulato. E adesso Allegria.